In cima alla lista delle priorità del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la realizzazione di 21 opere strategiche in tutta Italia, tra queste anche il 8-0, la bretella di collegamento tra il Bibio di Pesche della Statale 17 e il 8-1 della Isernia Casteldisangro, obiettivo del leader leghista a accelerare sulla pubblicazione dei bandi di gara, che dovranno essere disponibili già tra la fine dell'anno e gennaio 2023. E così a Isernia si riaccendono gli animi sull'8-0, già al centro di diverse polemiche nei mesi scorsi. Il sindaco Castrataro si era opposto alla realizzazione della strada, presentando ricorso al TAR, e poi aveva richiesto una modifica del tracciato in modo da renderlo più efficiente. Una richiesta caduta nel vuoto, un secco no al progetto era arrivato anche dal comitato Nolotto Zero, che a seguito degli ultimi sviluppi è tornato a ribadire la sua posizione. Il governo Meloni è in perfetta continuità con le scelte che sono state fatte precedentemente. Quindi c'è una continuità rispetto allo sfregio ambientale e allo spreco di denaro pubblico che si vuole realizzare facendo questa opera, che è stata a quanto pare confermata. Stiamo sollecitando il Comune da tempo, oltre un anno, a prendere dei provvedimenti cautelativi per bloccare quest'opera. Il Comune potrebbe farlo con un atto in autotutela. Se questo non avverrà e aspetteremo semplicemente ricorsi, il risponso della magistratura, è come se noi avessimo buttato una monetina e coloro che hanno il potere di fare questa azione si renderebbero corresponsabili di un'opera e di uno sfregio ambientale che conferma un po' quella che è la linea generale che il governo sta tenendo in questo settore.